Ben tornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Diletta Leotta lascia fiato i suoi fan con un palleggio da urlo. La conduttrice di Dazon infiamma la platea con stile e sensualità Una vera e propria celebrità ormai da tempo, in tv e sui social C'è chi la ritiene la più amata dagli italiani, e probabilmente non ha torto Quando si parla di Diletta Leotta del resto si va assolutamente sul sicuro La splendida conduttrice siciliana, 31 anni compiuti da poco, è il volto principale di Dazon Colei che ormai da anni ci accompagna nelle domeniche calcistiche e raccoglie consensi a scena aperta per professionalità, classe, eleganza, bellezza mozzafiato, che dimostra in ogni occasione Diletta Leotta, sempre più regina del calcio televisivo e dei social, scatenata Il suo seguito sui social, sempre più ampio, parla da solo Diletta muove quasi 8 milioni e mezzo di follower su Instagram, a riprova del fatto di essere già diventata una icona assoluta Sensualità spettacolare e fuori controllo, che gli ammiratori hanno già potuto godersi nel corso dell'estate Ma ora, Diletta è tornata al suo posto, quello che più ama, e chiamano anche i suoi fan, il terreno di gioco Con un campionato già entrato nel vivo, e che la vede in prima fila, sui campi dei big match della Serie A Diletta Leotta supera San Siro, palleggio perfetto e minigonna che si solleva, visione da favola Oggi, ancora una volta, Diletta è di scena a San Siro, alla scala del calcio, per il derby tra Milan e Inter Un match attesissimo, ma dove tra i motivi di interesse non ci sono solo le squadre in campo, bensì anche lei Pronta al fischio d'inizio, Diletta presenta il match sul suo profilo Instagram, con alcuni palleggi mozzafiato Manca poco al calcio d'inizio del derby di Milano Noi siamo pronti, e voi? Palleggi che non possono lasciare indifferenti Oltre a essere tecnicamente ben eseguiti, ci fanno ammirare le gambe perfette di Diletta, che quadricipiti Commenta qualcuno, fuoriuscire da una minigonna spaziale E il resto lo fa la camicetta, aperta quel tanto che basta La scollatura della fantastica conduttrice risalta come non mai, in pochissimo tempo il post viene assaltato di like e commenti, come sempre Il derby ha già una protagonista annunciata appunto, cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace, e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale, per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video